Il segretario della Lega. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la regione Calabria. È fatta per i candidati sindaci del centrodestra alle comunali di Roma e Torino. Ad annunciarlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Piena sintonia nel centrodestra spiega che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale. In ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la regione Calabria. Grazie a tutti.